Si dice che tutte le strade portano a Roma, ai protagonisti di questa storia, è andata proprio così. Noi stiamo cercando di creare un'orchestra internazionale di musica, con tanti musicisti stranieri. Uno che suona? Solo questi dischi. Ah, solo i dischi? Sì. Oh, solo i dischi. Noi stiamo cercando di creare un'orchestra internazionale di musica, con tanti musici, con tanti musici, con tanti musici. Noi stiamo cercando di creare un'orchestra internazionale di musica, con tanti musici, con tanti musici, con tanti musici. Noi stiamo cercando di creare un'orchestra internazionale di musica, con tanti musici. Noi stiamo cercando di creare un'orchestra internazionale di musica, con tanti musici. Noi stiamo cercando di creare un'orchestra internazionale di musica, con tanti musici. Noi stiamo cercando di creare un'orchestra internazionale di musica. Grazie.